17, 20, 23 luglio, finalmente ci siamo. Sono queste le date che il Comune di Padova ha segnato per l'accessione alla regione delle aree destinate al nuovo ospedale. Il Consiglio di Amministrazione delle Banche, proprietario di una parte di queste aree a Padova Est, si riunirà il 17 luglio. Il 20, un atto notarile, formalizzerà l'accessione al Comune. Il 23 si attende il via libera del parlamentino di Palazzo Moroni, in cui tutti, maggioranza e minoranza, saranno chiamati a fare la loro parte. Superato l'ampas, che di fatto da dicembre bloccava il progetto, la soluzione sembra vicina. D'altra parte, il presidente del Veneto, Luca Zaia, su questo era stato chiaro e lunedì aveva lanciato il suo ultimatum. Adesso ci siamo, un polo d'eccellenza con lo sanitario padovano, dove arrivano pazienti da ogni parte d'Italia. Reparto trapianti, fegato, epatobiliari, tutte quelle cose. È una cosa importante, lei da dove arriva? Da Foggia. E Padova speriamo riesca a risolvere? Speriamo. Dalla Puglia, questa donna che si è rivolta a uno dei fiori all'occhiello, il centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera di Padova. Da Roma, questa paziente che nutre grandi aspettative. C'è il centro specializzato per l'esofago di Barrett, per cui ho letto su internet che c'è il primario, c'è un'equip molto valida, per cui diciamo dal policlinico, che non sono stata contenta, ho preferito venire qui. Quindi siamo arrivati questa mattina, oggi alle 5.30 ho la visita e vediamo. Viaggi della speranza verso una sanità con la S maiuscola, che per troppo tempo è convissuta con una struttura inadatta a una scuola di medicina come quella padovana. Il regalo di Natale, arrivato con la sottoscrizione del protocollo a Venezia, diventerà il regalo di Ferragosto. I cittadini aspettano.